Passato il ferragosto, pian piano riprende l'attività amministrativa Palazzo di Città Pescara, ma soprattutto Antonelli si avvicina all'appuntamento tra qualche mese con le amministrative per l'elezione del nuovo sindaco. Qual è l'orientamento del centrodestra? Ci sono già dei nomi? L'orientamento del centrodestra è di creare una coalizione ampia che metta dentro tutti i partiti, tradizionalmente ancorati al centrodestra, ma allargando anche le esperienze civiche. Insomma, tutti quei cittadini che ritengono sia arrivato il momento di partecipare alla gestione della cosa pubblica. E quindi, il nostro approccio non potrà che essere questo, di ampia condivisione di un programma che porti alle elezioni di maggio 2019. È evidente che questo percorso ha bisogno di tempo, lo inizieremo immediatamente dopo il rientro dalle ferie, quindi dai primi giorni di settembre, ma diciamo che questa fase di ascolto per quanto ci riguarda non è mai mancata in questi anni. Il confronto c'è stato sempre sia con i cittadini che con le associazioni, con gli ordini professionali, con le associazioni di categoria. Insomma, tutto quello che non deve mai mancare all'interno di una forza politica o di una coalizione, come nel nostro caso, che si candida, io credo doverosamente, alla guida della città di Pescara. Nel centro-sinistra c'è lo strumento delle primarie, nel centro-destra quale sarà il modus operandi per individuare il candidato giusto? Nel centro-sinistra, più che lo strumento delle primarie, c'è lo strumento della confusione. Abbiamo assistito a un sindaco che si ricandida e al segretario del suo partito, che lo smentisce e dice che faranno le primarie. Con ciò, generando che cosa? L'assoluta convinzione della città, ma c'era già, garantisco, nei pescaresi che questa è un'amministrazione fallimentare e che Alessandrini è stato un pessimo sindaco, così come la sua amministrazione. Per quanto riguarda il centro-destra, non abbiamo mai fatto le primarie. Come detto, ci confronteremo all'interno dei partiti e poi ci sederemo con tutti i soggetti che intenderanno ragionare insieme a noi e un programma largamente condiviso per rilanciare Pescara, anche nell'ottica di quel grande appuntamento che è il 2022, cioè la creazione di Nuova Pescara, insomma, che è una cosa che non dovremmo dimenticare e che ci vedrà molto impegnati in questi mesi e in questi anni.